eccoci buonasera buonasera a tutti ben ritrovati come stavo dicendo in chat buonasera a tutti i 12.000 e passa a follower che ci stanno seguendo questa sera buonasera envy trap buonasera a sisse element buonasera a ddos che ultimamente ritrovati non è mai puntuale e buonasera a tutti quelli che ci sono insomma che stanno rimanendo anonimi in chat per cui non so i loro nomi e vabbè per stavolta vi perdono bene e la barba è andata è caduta ciao brutti porci ok è un nick ho detto un nick non è che dicevo voi così vabbè mi sono reso conto dopo aver letto cosa c'era scritto e grazie a tutti di essere qui e niente va bene questo era tutto quello che volevo farvi vedere stasera vi ringrazio la security cert è tutto e ci vediamo venerdì prossimo ecco è arrivato è arrivato di dos quindi era uno scherzo per lui e ciao di dos è un piacere averti qui come sempre bellissima live grazie la più bella perché non abbiamo mai avuto 12 mila spettatori tutti assieme in una live di un minuto per cui è bellissimo cioè stupendo niente dai facciamo i seri ho dato giusto al solito ti tocca fare le live se c'è di dos e tocca tocca cosa volevo dire niente solite solita introduzione intanto vabbè vedo che rispondete quindi l'audio è ok e volevo ringraziare come sempre security cert per ospitarci qui gli sponsor che che continuano a rendere possibile questo progetto tutto lo staff di dos ovviamente immancabile che quando c'è bisogno mi tira per l'orecchio mi mette sulla giusta strada quando magari prendo qualche tangente nel senso che prendo qualche via alternativa o sbaglio i calcoli matematici ok e il supporto di tutti quanti insomma quelli che ci seguono facciamo un un breve punto della situazione se vi ricordate la scorsa volta abbiamo trattato questo software qui mini stream rm mp3 converter e abbiamo visto come è già la seconda volta che trattiamo questo software in realtà nella prima puntata due settimane fa abbiamo calcolato correttamente quanti byte servissero per solo scrivere eip l'abbiamo fatto con un metodo matematico di divisione progressiva invece di usare il pattern perché il pattern non non riusciva a darci i risultati probabilmente per qualche becciarsi o per qualcosa di strano ma comunque era l'occasione anche per farvi vedere altro metodo di calcolo abbiamo predisposto il tutto e la scorsa volta invece abbiamo cominciato a costruirci a manina e abbiamo visto quanto difficile può essere costruire a manina una una rop chain quindi generare una lista di gadget direttamente con mona con rop gadget o con quello che volete rp più più quello che preferite e da lì poi con l'utilizzo della linux di un cat e di una semplice grep eravamo andati a vedere che ne so push sp vediamo se c'è ecco ti pareva che beccavo qualcosa che non c'era pop e a x niente a posto a grep meno i ok perché erano maiuscole quindi andava messo l'insensitive e quindi andando a greparci pian pianino tutti i gadget che servivano stavamo ricostruendo una rop chain buonasera stavamo costruendo una rop chain sulla falsa riga di quella che avevamo visto per il questo stream ripper forse vediamo che avevamo visto no vabbè è la scorsa volta sul sull'exploit del dep assi probabilmente ce l'ho qui pont security cert dep 1 eccolo qui questo qui vi ricordo era stato creato come come si vede dai commenti da mona e ci aveva creato lui la funzione che genera la rop chain noi sulla falsa riga di questo siamo andati a farcela manualmente utilizzando sempre la tecnica del push ad quindi predispongo tutti i parametri della funzione virtual protect piuttosto che virtual alloc write memory process quello che ci serve nei vari registri predispongo il rop nop la sfilza di nop e il jump sp e quando tutto è pronto con il push ad e con il push ad pusho mando tutti questi parametri nell'ordine corretto nello stack a quel punto viene eseguita la virtual alloc virtual protect o quello che è rende lo stack eseguibile nuovamente poi salta a lascia il code e l'esegue con profitto l'abbiamo visto appunto in questo exploit fatto automaticamente da mona e avevamo cominciato a farlo a mano come dicevo la prima volta ci siamo calcolati il numero corretto di di buff di byte che servivano per scrivere ap e l'altra volta abbiamo fatto questi due pezzettini qui quindi il rop nop e la virtual alloc in realtà eravamo andati avanti abbiamo fatto un po di cose però avevamo scelto di usare la virtual protect invece che la virtual alloc inizialmente ma poi alla fine ci siamo arenati perché non c'era nessun puntatore nella import al stable alla virtual protect e non c'era nessun puntatore stabile quindi erano tutti su dll che cambiavano dinamicamente ad ogni runtime quindi abbiamo optato invece per usare la virtual alloc di cui avevamo trovato un puntatore stabile e quindi da qui possiamo continuare io rispetto alla scorsa volta ho completato un po l'exploit nel senso che noi eravamo arrivati qui io ho aggiunto solo le cose statiche sotto quindi la c'è il code il push ad che l'avevamo comunque cercato la scorsa volta ma non avevo scritto qui l'avevamo negli altri appunti e poi il il nop la sequenza di nop che era semplicemente un po pa x che già ce l'avevamo qui l'ho copiato incollato anche qua sotto quindi quello che oggi ci rimane da fare è andare a trovarci come calcolare il dv size o meglio come mettere in ebx il valore dv size cioè uno come mettere mille in edx cioè fl location type e come mettere e 40 in ecx vi ricordo che dv size location type e fl protect sono i tre parametri che si aspetta la virtual alloc mentre in esi ci mettiamo proprio l'indirizzo di virtual alloc bene andiamo quindi quindi qui eravamo arrivati quindi la parte da fare oggi è questa qui andiamo un attimino a vedere come possiamo procedere se non avete domande se vi è tutto chiaro se vi torna che eravamo arrivati a questo punto la prima cosa che farei è andare a rieseguire questo questo exploit cioè questa parte o questo exploit parziale per vedere appunto dove eravamo arrivati allora mandiamo in run il programma e diamo in pasto il file creato dell'exploit vediamo che trigger a il break point che avevamo messo quindi sul primo pop e di se andiamo a risseguire il exploit vediamo che dopo la prima istruzione che gli facciamo fare e pop e di e in eddy cosa va a mettere va a mettere un un valore junk e fa il return era giusto così pop rock qui al posto che è un junk mi sarei aspettato un c'è qualcosa che non mi torna ah giusto 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 scusate sì abbiamo visto la scorsa volta che subito dopo fatto le prime istruzioni dopo essere saltati su su sp quindi dove serve il jump sp o comunque su su ret su inizio ritorno venivano prelevati dallo stack 4 byte inspiegabilmente ma funzionava così internamente il programma e quindi questo qui era solo per tamponare quei 4 byte iniziali che vengono presi dallo stack poi il vero indirizzo che viene poppato in eddy è questo qui che è un return perché dobbiamo fare la rop nop che semplicemente l'abbiamo spiegato due volte fa è semplicemente un return ora mi torna quindi se noi facciamo f7 se guardiamo cosa succede in eddy in eddy effettivamente ci troviamo questo se facciamo un foglio dump giusto così per vedere troviamo c3 e c3 sappiamo ormai dobbiamo sapere la memoria ma comunque posso farvelo vedere a disasco non è se sola c3 corrisponde a retur quindi proprio quello che ci aspettavamo abbiamo un rock nop benissimo quindi possiamo andare avanti con la nostra rop chain passiamo al secondo blocco nel secondo blocco abbiamo tutta la manipolazione di di ea x quindi mettiamo in a x il virtual alloc della importare stable che sappiamo essere solo un puntatore alla vera virtual alloc di kernel 32 e poi con la dereferenziazione rimettiamo sempre in a x però il valore vero della virtual alloc e non il valore della importare stable e poi con un exchange andiamo a metterci a storare a depositare questo valore da ea x in esi perché è lì che deve stare sempre in base alla tabellina che stiamo utilizzando per questa tecnica del push ad quindi in ea x dovremmo avere in op e cx edx eccetera e in esi il puntatore alla virtual alloc quindi quindi ci siamo quindi se andiamo avanti con la nostra rop chain quindi premiamo f7 in ea x viene puntato se vedete il puntatore la e commerciale sta per puntatore la virtual alloc poi adesso faccio la dereferenziazione e in ea x mi trovo invece il vero indirizzo della kernel 32 virtual alloc nonostante aver riavviato la macchina e tutto essendo che abbiamo preso da una delle librerie che sono statiche che quindi non variano ad ogni avvio del programma funziona ancora oggi senza dover fare modifica senza aggiustare nulla e poi con exchange esi ea x questo valore dx lo andiamo a spostare in esi eccolo qui abbiamo la kernel virtual alloc in esi e fin qua siamo arrivati adesso se continuiamo niente siamo arrivati qua sotto doveva fare il carica il junk in ea x e file push ad ma questo qui possiamo anche fermarci qui per dobbiamo completare questi altri step quindi facciamo ripartire il programma e vediamo come come continuare la nostra rop chain allora quello che a noi interessa adesso è riuscire a mettere uno in ebx abbiamo più modi per fare questo come vi dicevo la scorsa volta per mettere uno in ebx noi potremmo ad esempio fare così potremo fare uno xor di ebx con ebx quindi azzerare registro e poi incrementarlo di uno andiamo a vedere se abbiamo i gadget per farlo andiamo quindi a cercare dei gadget per xorare ebx abbiamo due gadget che possono fare al caso nostro che poi è sempre lo stesso uno comincia un istituzione prima questo è semplicemente shiftato in qua ma è sempre lo stesso però questo qui è un problema potenzialmente due problemi qui va a puntare a un valore in edi e noi in edi ci abbiamo messo la virtual alloc quindi potrebbe anche funzionare perché il valore è reale e vabbè e il problema è che questo valore è quello che viene esaurato con ebx quindi non avviene uno xor di ebx con ebx quindi non avviene un azzeramento del del registro ma viene proprio un un xor che darà fuori un valore numerico che a noi non interessa noi interessava azzerare registro oltre a tutto ciò se vedete dopo c'è un pop ebx quindi pur riuscendo ad azzerare bx il pop successivo mi andrebbe a a sporcare a mettere dati dallo stack in ebx quindi non andrebbe bene infine non andrebbe bene comunque perché va a manipolare lo stack sp il puntatore dello stack e noi sappiamo che se p non deve mai essere toccato nel rob chain perché tutta la logica di funzionamento del rob chain è proprio che lo stack o sp punta ogni volta all'istituzione successiva e poi quello scarso dal ret distruzione in cima allo stack va a finire in ap se tu mi sposti il puntamento sp dovrei prevedere di mettere dei byte junk per coprire gli spazi che lui va a aggiungere togliere eccetera però comunque è inutilizzabile questo questo gadget perché qui andrebbe a fare un pop e qui non fa comunque l'azzeramento del del registro allora come possiamo procedere possiamo andare a vedere se abbiamo dei gadget che fanno la somma o la sottrazione di qualche valore di ebx però anche qui vediamo che anche la sottrazione di ebx fa sempre quello scherzo di questo valore puntato eccetera e poi comunque fa il pop dei bx e quindi ci rovina tutto il lavoro non possiamo usarlo vediamo se c'è qualcosa che fa l'addizione ovviamente sì però anche qui usare un valore di addizione non sappiamo che valore a prima ebx e se a zero ottimale sarebbe trovare a ad ebx virgola 1 quindi aggiungere uno ad ebx però non è così e poi tutti quanti fanno o quasi tutti fanno il pop di ebx successivamente a parte questo che va a sommar miesi e bx però diciamo principalmente non abbiamo quello che fa il caso nostro ottimale sarebbe stato invece avere un come si chiama un ebx a zero quindi con l'oxor o già nativamente e poi fare un ad ebx 1 che non abbiamo quindi abbiamo un po esaurito i tentativi facili abbiamo due strade possiamo vedere di fare come abbiamo già fatto in precedenza caricare il valore negativo di 1 quindi p calc meno 0 x 1 quindi tutto f f f f quindi abbastanza easy facciamo un pop di a x di questo qua e poi in qualche modo lo spostiamo in ebx oppure se esiste facciamo direttamente il pop in ebx adesso non mi ricordo se esiste andiamo a vedere di pop ebx ne abbiamo quanti ne vogliamo quindi non è un problema quindi potremmo eventualmente caricare il valore meno 1 quindi il valore negativo di 1 e poi negare ebx per negare ebx però dobbiamo avere il gadget neg ebx che non abbiamo allora qui abbiamo due possibilità o facciamo il pop in ea x e vediamo se ad esempio se è un exchange di ebx con ea x che non c'è possiamo vedere il contrario se c'è un exchange di a x con ebx e c'è qualcosa vediamo se sono utilizzabili quindi con questa idea sarebbe io carico il meno 1 in a x faccio la negazione di a x perché il neg ebx non esisteva quindi devo negarlo in a x e poi con exchange lo sposto da ebx ebx allora questo qui si vede già occhio che è un casino disumano sarebbe da aggiustare troppe cose quindi lo lascerei casomai per ultimo vediamo se c'è qualcosa di più utilizzabile questo va a toccare sp non si può usare questo va a toccare sp non si può usare questo va a toccare sp non si può usare questo va a toccare sp non si può usare questo anche va a toccare sp tanto alla fine sono tutti pezzetti dello stesso quindi non abbiamo neanche la possibilità di fare il lavoro in ea x e poi fare l'exchange in ebx possiamo vedere se abbiamo ad esempio sarebbe utile fare anche add ebx e ax quindi andare poi a mettere il risultato di a x in ebx quindi spostare il valore 1 da e a x a ebx però anche qui ci vorrebbe il prerequisito che ebx fosse 0 noi non abbiamo modo di azzerare ebx e quindi è inutilizzabile anche questa strada qui allora a questo punto possiamo dire che non abbiamo strade per mettere il meno 1 strade semplici strade note il meno 1 in ebx stavo facendo un attimo mi ero bloccato ma stavo facendo un attimo un mente locale se le avevamo provate tutte sì allora possiamo inventarci qualcosa di diverso possiamo anche visto che il pop ebx abbiamo visto che c'è ricontrolliamo ah sì così non si cancella pop ebx abbiamo visto che c'è ne abbiamo quanti vogliamo vediamo se abbiamo uno pop ebx red pulito si c'è però vediamo se ne abbiamo uno che parte direttamente così quindi ci mettiamo questo nel grep in modo da ok ne abbiamo quanti vogliamo che sono pulitissimi che parto che fanno pop ebx e return quindi non abbiamo assolutamente nessun nessun problema a utilizzare uno di questi l'unico problema che dobbiamo stare attenti è che l'indirizzo che scegliamo non contenga uno dei tre betcharts vi ricordo che betcharts sono 00 09 e 0 a 0 d 0 a volevo ricordarvelo invece non mi ricordo nemmeno io 0 a ok avevo detto giusto quindi possiamo scegliere uno qualsiasi di questi pop e l'idea qual è faccio il pop in ebx di cosa di meno 1 quindi di f 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 e poi non posso fare la negazione non posso fare altre cose però meno 1 è a due passi dall'uno perché se io a meno 1 sommo 1 arrivo 0 se sommo 1 arrivo più 1 quindi posso fare due volte incrementa e ebx però per fare l'incremento di ebx devo avere la fortuna di avere un inc ebx che vi dico già che c'è quindi intanto vado già a copiarmi questo pop ebx quindi vado a fare il pop di ebx così cominciamo a costruire qualcosa e poi cosa fa di cosa faccio il pop faccio il pop di del valore meno 1 che abbiamo visto essere f 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 e questo vale meno 1 ora dovrei fare se sono presenti due volte l'incrementa ea x quindi come vedete è sempre un gioco di una sfida di trovare ah non c'è vediamo se c'è senza questo ok per fortuna ce ne sono quante vogliamo quindi è una sfida di trovare sempre metodi alternativi logici per riuscire a fare quello che ci serve adattandoci ai gadget che abbiamo disponibili a volte abbiamo fortuna di averli tutti a volte come l'altra volta non avevamo nessun puntatore però lì non era un problema di gadget era un problema di come è fatto il programma ma alla fine si la maggior parte dei problemi solitamente è che voi avete in testa un'idea va bene devo mettere 1 lì non posso fare pop di 1 no non posso fare pop di 1 perché 1 è un valore troppo piccolo e quindi in positivo si porta dietro tutta una serie di null byte allora faccio meno 1 e lo nego eh ma non c'ho il gadget per negarlo ah ok allora lo metto in a x e poi lo sposto in a b x non ho modo di spostare in a b x ok allora faccio l'oxor di a b x e poi ci aggiungo 1 non esiste modo di fare l'oxor di a b x e avanti così cioè su questa ci ho perso un po' di tempo proprio farvi vedere proprio le difficoltà che si riscontrano normalmente a fare questo tipo di attività proprio perché se non hai il gadget perfetto o se non hai i gadget che ti servono e non riesci a trovare ragionando una via alternativa per il solo problema e sei finito ripeto questo esercizio l'ho detto già l'altra volta più volte è a scopo didattico per farvi prendere confidenza con le assembly proprio perché questo sbattere la testa trovare metodi alternativi vi fa prendere confidenza con le assembly anche nell'ottica di scrivervi poi una shellcode oppure anche l'esercizio che abbiamo fatto inizialmente sul rendere null free una shellcode ha lo stesso scopo poi ovviamente ci sono i tool automatici abbiamo visto che Mona lo fa però in questo caso qui abbiamo visto che Mona non riusciva a trovare nessun neanche lei non riusciva a trovare un puntatore a virtual protect quindi è comunque da dire ok uso il tool automatico ma se il tool non va cosa faccio? non faccio più l'exploit? no mi ha dato e faccio a manina però partendo già da un prodotto partendo già da un output di Mona a quel punto devo aggiustare 2-3 punti a manina non devo scrivermi la tutta però ovviamente per imparare a aggiustare 2-3 punti è molto utile scriversi la tutta come stiamo facendo noi bene prendiamo quindi un incrementa BX e poi questo XOR AL AL questo qua va bene anche il primo è indifferente uno di questi tanti ci va benissimo perché ok lui fa il XOR di AL AL ma noi che ce ne frega tanto AL è semplicemente la parte bassa la parte piccola di EAX EAX è il registro che più di tutto abusiamo come registro temporaneo per metterci le robe infatti proprio l'ultima istruzione che facciamo prima del push AD è andare a mettere il valore che ci serve in EAX lo lasciamo per ultimo appositamente perché EAX è il registro solitamente più usato per le operazioni matematiche e quindi è quello su cui è più probabile trovare dei gadget dei gadget per fare la negazione la somma, la sottrazione, l'OXOR tutto quanto quindi è un registro che usiamo in ogni passaggio quindi va bene anche se in questo caso lo azzeriamo non ci fa male quindi possiamo andare a dire che siamo riusciti a raggiungere il fatto di avere in EBX il valore più 1 in positivo però tra il dire e il fare c'è di mezzo mare dicevano quindi dirlo una cosa vediamolo in pratica quindi andiamo a rigenerare la nostra shellcode e la diamo in pasto al nostro programma e vediamo che succede allora abbiamo il primo XOR che mette in EAX1 no, che mette scusa in EDI il return poi abbiamo in EAX il puntatore virtuale unlock che viene dereferenziato e abbiamo la virtuale unlock corretta e viene messo in ESI e poi arriviamo a questo nuovo parte che abbiamo scritto adesso cioè POP di EBX dove ci mettiamo FFFFFF quindi meno 1 e poi facciamo un incremento facciamo un altro incremento e finalmente in EBX abbiamo 1 quindi abbiamo raggiunto il nostro scopo abbiamo completato questa parte di di ROP chain qui ora andiamo avanti con la allocation type in allocation type io devo avere 40 come posso procedere qui? allora ci sono vari modi 40 va messo in ECX quindi prima cosa che posso andare a verificare anzi aspettate che riavvio il programma se no dopo magari provo a buttarci la payload e non funziona perché ne avevo riavviato ok allora ci sono più modi per mettere ah no scusate prima FF allocation type FF allocation type devo metterci 1000 come faccio a metterci 1000? allora bello sarebbe riuscire a fare XOR di edX con edX quindi azzerare edX e poi trovare un gadget di addizione che mi aggiunge ad esempio 1000 o mi aggiunge 800 e uno dirà perché 800? perché 1000 diviso 2 fa 800 in assieme in esadecimale se non perdo colpi vediamo pk 0x1000 diviso 2 fa 800 quindi occhio a non cadere nella trappola mentale di ragionare in decimale perché uno dice vabbè 1000 diviso 2 metto 2 da 500 non è bisogna mettere 2 da 800 per arrivare a 1000 in esadecimale quindi attenzione anche a queste piccole cose qui perché altrimenti se non state attenti a quei calcoli matematici viene subito di DOS a a riproverarvi giustamente e a darvi una mano io la butto per ridere non è che mi ha sorpresa assolutamente l'altra volta solo per ridere per ogni tanto sdrammatizzare e smorzare le cose questi discorsi così un po' più pesanti più matematici quindi dicevamo dobbiamo fare F location type di 1000 come possiamo fare? abbiamo vari modi appunto il primo dicevo potrebbe essere quello di andare a fare lo XOR di EDX in questo caso e poi sommare EDX 1000 se esiste oppure 2 volte 800 oppure qualcosa che dia come risultato 1000 proviamo a fare XOR EDX con EDX ok partiamo bene abbiamo la possibilità di alzerare EDX che è questo qui ad esempio che è il più pulito non ha altro dentro vabbè anche questo è pulito non c'è niente dietro quindi già partiamo bene già siamo fortunati che possiamo XORare EDX e alzerarlo quindi questo ce lo portiamo a casa poi vedremo se usarlo o meno ma intanto ce lo portiamo a casa perché dico vedremo se usarlo o meno perché potrebbe essere che non troviamo niente che ci faccia sommare e arrivare a 1000 e quindi magari dobbiamo fare il pop in EDX di qualcosa e poi aggiustare quei valori lì un po' come abbiamo fatto con EBX con EAX eccetera quindi nel dubbio per non saperne leggere e scrivere andiamo a vedere anche se esiste un pop di EDX con l'interno otteniamo già i gadget e ne abbiamo anche qui quante vogliamo ad esempio prendo questo e me lo metto qui che mai si sa che ci possa tornare comodo quindi abbiamo due strade o a 0 il registro e poi in qualche modo arrivo a 1000 oppure col pop mi porto nel registro qualche valore ovviamente siamo sempre lì 1000 non posso portarlo perché 1000 a 32 bit diventa 0000 e pieno di 0 e quindi non va bene potrei portare il valore di 1000 in negativo e poi fare la negazione vediamo se è possibile se esiste il neg edX purtroppo non ce l'abbiamo poi anche qui non sarebbe stato possibile fare il negativo di 1000 ma sarebbe stato da fare ad esempio 1001 e poi togliere 1 oppure 999 e poi sommare 1 perché questo? perché se andiamo a fare il negativo di 1000 ci viene fuori questo qui che alla fine ha un null byte e non sarebbe possibile usare quindi sarebbe da usare o 1001 o 999 in modo da non avere null byte quindi anche qui attenzione se portate il 1000 poi c'è un passaggio in più da fare sarebbe da fare link o il deck di edX vediamo se esiste per incrementare edX si esiste vediamo se esiste per decrementarlo esiste anche questo poi magari questo non è tanto usabile qua va a agire su SP qua va a agire su SP qua va a agire su SP questo forse potrebbe essere usabile se non scoppia qui con questi puntamenti aX che magari trova in AX un valore non valido di memoria quindi scoppia questo potrebbe anche essere usabile che va a aggiungere un valore aX che non ce ne frega niente e poi va a fare il pop diesi ecco però se questo mi va a fare il pop diesi mi rompe la virtuale alloc che abbiamo già già posizionato comodamente in ESI allora a quel punto se dovessimo usare questo dovremmo posizionare poi questo blocco sopra la virtuale alloc prima di ESI visto che poi questo varrà un per 1000 ESI e quindi anche a queste cose è da stare attenti un attimino vedere quali gadget si prendono e se eventualmente questi rompono il lavoro già fatto se si può si mette prima si anticipa e se no dopo bisogna ritornare a mettere a posto il lavoro che lui ci ha rotto quindi è una sfida continua l'europe chain qualcuno direbbe che è anche una rottura di scatole infinita però se vi piace invece sbattervi la testa e allenarvi la mente dal punto di vista matematico dal punto di vista di assembly sicuramente ripeto è un esercizio è un buonissimo esercizio secondo me buonasera a tutti ciao BK ciao Universal M grazie di essere con noi quindi abbiamo visto che possiamo sia fare il pop sia possiamo andare a fare il lo XOR e a zerare e importare possiamo fare il pop possiamo fare l'ink non mi ricordo se c'erano ink ink ed x ce ne sono anche puliti quindi potremmo sommare potremmo importare il 999 e poi fare il negativo e poi negarlo e incrementarlo di 1 o decrementarlo di 1 il problema però se non ricordo male è che non avevamo la negazione infatti quindi non si può fare il pop perché non abbiamo la negazione o perlomeno non si può fare il pop con quell'ottica di dire metto 999 oppure metto 1001 in negativo e poi incremento o decremento per portarlo a 1000 no non posso perché non ho il neg potremmo fare il ragionamento che abbiamo fatto prima per ebx quindi vedere se posso fare tutte le operazioni matematiche in eax e poi spostarlo in edx quindi posso vedere se ad esempio c'è un exchange di edx oppure un exchange eax edx e qui c'ho qualcosa però questo non si può usare perché va a toccarmi esp questo mi va a xorare a l che non me ne frega niente va a fare il pop dbx e mi rompe il lavoro appena fatto e qui va a puntare però a esi più 5f che potrebbe scoppiare e non trovare un indirizzo valido e qui va a aggiungermi sempre su un indirizzo di x quindi uno dei due sicuramente volta proprietà scoppia e non si riesce a farlo funzionare qua mi va a toccare lo stack e non si può questo per lo stesso motivo ha due puntatori indirizzo di memoria che non saranno valide sicuro quindi scoppia questo anche e in più questo mi distrugge easy quindi diciamo non è la scelta migliore usare questo tipo di exchange però potremmo vedere se abbiamo una cosa più soft quindi un move un move grazie per il follow Claudio Cinghialta Cinghialta scusa potremmo fare un move però la destinazione del move deve essere di x e però non abbiamo un move possiamo provare a vedere se possiamo fare un add sempre con questa logica che l'output finisca che il valore di risultato finisca nel di x abbiamo questi però anche questi hanno sempre i puntatori a zone di memoria che probabilmente a resisti che non contengono zone di memoria probabilmente scrivibili oltre al fatto che vabbè questo va a caricare in eax non ci interessa però anche qui ci sono altri puntatori sicuro questi scoppiano e ci danno access violation e quindi niente quindi così non si può fare ciao blitz buonasera così non si può fare quindi che altre alternative abbiamo possiamo possiamo sbizzarrirci un attimino con la matematica noi possiamo dividere il il valore di 1000 o meglio sottrare al valore di 1000 il valore negativo di meno 1 e poi sottrare un valore arbitrario che decidiamo di impostare noi prendere questo risultato e questo risultato che otteniamo sommarlo a 1001 per tornare per compensare il negativo di prima e ottenere così in output un un valore che sommato a quello precedente a quello che verrà importato in un altro registro ci darà al risultato 1000 ve lo faccio ve lo rispiego perché fatto a mente è un po' è un po' scomodo l'inizio ho sempre avuto il pizzetto cioè la barba ce l'ho avuta solo negli ultimi due mesi forse tre mesi forse da quando sono in security search ma per tutto il resto della mia vita ho sempre avuto il pizzetto la barba era solo così una cosa temporanea di questo inverno allora lo scopo è trovare due registri liberi di cui uno è edx e l'altro è quello che troveremo libero sommare mettere due valori un valore in edx un valore in edi in modo che questi due sommati mi diano fuori come output 1000 per fare questo però devo vedere se ho altri altri registri liberi nel quale portare un valore e se posso sommare questi quindi devo fare add edx e vedere quali altri registri posso sommare a edx ovviamente vado a cercare un gadget che sia il meno distruttivo possibile e ho solo questi ho solo questa pagina da scegliere direi che questo è il meno distruttivo di tutti perché fa solo due operazioni mi fa la somma che mi serve e poi mi fa un pop di abx problema però abx noi l'abbiamo già settato però nessuno ci vieta di prendere questo e spostarlo altrove spostarlo più sopra così da non andare a rompere quello che io ho fatto con abx ad esempio e faremo proprio così visto che le altre soluzioni non hanno funzionato andiamo a prendere questo blocco qui e lo mettiamo sopra dv size perché quello che lui va a rompermi è qui andiamo quindi a prenderci questo gadget che mi fa la somma tra edx e edy e ce lo posiziono qui questo qua so già che lo dovrò usare quindi posso già anche metterlo in bella forma perché visto che tutti gli altri metodi non era possibile farli perché avevamo i gadget dobbiamo per forza optare per questa sorta di operazione matematica che mi farà fare la somma di questi due registri e quindi il risultato che otterrò sarà poi quello di quello che mi servirà però attenzione spostando questo f e questo qui come ultimo valore qui andrò ad avere in edx proprio valore 1000 e quindi sarebbe finita qui l'operazione però attenzione questo gadget si porta dietro un'altra operazione pop e bx però guardate bene io l'ho messo qua sopra perché mi andava romperi bx però questa operazione di bx di v size comincia proprio con un pop e bx quindi io è inutile che qui vado a metterci un junk cioè normalmente dovrei fare così dovrei fare junk e poi qui sotto continuare col blocco di e bx ma non ha senso visto che ho già qua un pop e bx che poi è lo stesso che viene fatto qua io a questo punto posso cancellare questo junk posso benissimo cancellare questo e bx da qua e il gioco è fatto praticamente questo pop e bx mi importerà questo meno uno qui quindi saremo esattamente alla situazione che ci serve quindi abbiamo risparmiato anche una riga perché il gadget che era qui è già incorporato in questo qui adesso però mancano altri gadget qui la prima cosa dobbiamo fare un pop in edx e un pop in edy per poi fare la somma quindi andiamo a predisporre per questi due gadget pop di edx valori in edy pop di edy valori in edy quindi andiamo a prenderci il pop di edy uno a caso che non contenga null byte questo e sistemiamo la sintassi dopo arriviamo sulla parte matematica intanto preparo con lo scheletro così che vi sia chiara la logica che stiamo usando e adesso vado a fare un pop di edy vediamo intanto se ci sono domande no a posto pop di edy però vorrei un pop di edy pulito non con tutte queste porcherie come vedete di pop di edy ce ne sono tanti questo ci fanno sperare bene di trovare anche uno pulito proviamo a cercarlo direttamente così e ne abbiamo quanti ne vogliamo anche di questi quindi andremo a usare questo che vedo che non ha 0 9 0 a 0 0 quindi anche questo è sistemato quindi in sostanza adesso dobbiamo trovare due numeri che non contengono null byte quindi non siano positivi che sommati mi diano il valore di 1000 perché non posso fare la somma di due valori 800 visto che abbiamo visto che 800 per due fa 1000 perché 800 è un numero troppo piccolo e si porterebbe dietro dei 0 e in realtà sì stavo rispondendo a vediamo un jack ciao a tutti buona buonasera ma con lo stesso ragionamento non potresti usare il primo comando per portarti avanti con il pop di edy allora sì ma no nel senso che qui c'è un pop di edy però qui mi serve per avere un valore da sommare a edyx quindi io ho bisogno poi che in edy ci sia una return questo rop no quindi al limite dovrei trovare un valore che sommato a questo mi dia 1000 sì potrei potrei non fare il pop di edy qui farlo direttamente qui importando questo valore e poi trovare un valore che sommato a questo mi dia 1000 ma questo valore è positivo c'è un indirizzo positivo è difficile che sommato a qualcos'altro mi dia 1000 non credo sia fattibile però proviamoci perché l'idea mi piace tanto così risparmiamo ancora risparmiamo anche questo proviamoci va bene quindi qui abbiamo la struttura adesso vediamo se riusciamo a trovare due valori di cui uno sarà questo questo punto sul suggerimento di vediamond jack e questo andrà no scusate non qui ma in ed e qua dobbiamo trovare il valore in edy x che sommato a questo ci da 1000 allora in questa maniera come ci suggerisce vediamond jack sarà possibile poi togliere questo questo blocco qui perché con questa unica istruzione abbiamo già la preparazione di bx quindi il pop di 1 avremo in edy il valore del pop return che ci serve qui e in edy x andrà a finire la somma di edy ed edy x attenzione la somma che io uso è edy x virgola edy quindi vuol dire che il risultato della somma andrà a mettersi in edy x quindi edy non verrà toccato quindi il valore che noi metteremo qui resterà inalterato e quindi andrà benissimo per essere il nostro rop nop di edy quindi se troviamo il valore corretto da sommare che non contenga null byte possiamo fare anche così buonissima idea ti ringrazio altrimenti si fa un passaggio in più però ovviamente in questo caso non c'è un problema perché qui stiamo lavorando con dei numeri enormi basti pensare che ci sono 26.000 byte per arrivare al buffer e l'altra volta abbiamo visto che i numeri anche dopo all'AP i numeri dove posizionava share code erano enormi quindi abbiamo tutto lo spazio del mondo ma nei casi nei quali invece avessimo lo stack piccolo poco spazio nello stack risparmiare e quindi riuscire a condensare insieme più valori più comandi è il massimo della vita proprio perché in tante situazioni lo spazio è poco e la blockchain pian piano cresce diventa lunga quindi ottima idea proviamo a vedere se la matematica ci assiste allora la logica è questa io prendo è questa una cosa un po' più incasinata io prendo 1000 che è il valore di destinazione quello che voglio ottenere e ci sottraggo meno 1 e questo serve per portarlo ah si scusate sto scrivendo male 0x f f f f f f questo serve per portare il valore in negativo con il solito discorso che a 32 bit va in overflow e quindi passa da negativo a positivo a questo però ulteriormente ci tolgo cosa? ci tolgo il nostro valore e ottengo un risultato che è questo fd9a e 3d4 perfetto non ha null byte quindi forse ce la possiamo fare adesso con questo risultato che ho ottenuto che quindi questo dovrebbe essere l'altro valore che io vado a sommare a no non è così che si fa no non funziona cioè per trovare un valore che ci dà come risultato questo è più complesso ma intanto vi faccio vedere la logica adesso dovrei fare la stessa logica con un altro valore quindi sempre 0x f f f f e andrò a sottrare a questo questo valore e ottengo quest'altro valore adesso ho due numeri enormi come vedete quindi negativi che però per overflow diventano positivi perché le prime parti vengono ignorate per via di 32 bit quindi adesso se io vado a non è proprio così sto cercando scusate sto cercando di arrivare a questo valore quindi sto cercando di invertire la logica che avevo in testa cioè la logica che uso sempre allora grazie mille purtroppo ho perso la prima parte dell'esercizio la prima parte è nella live della scorsa settimana quindi la trovi online sia su twitch che su youtube se vuoi vederla se vuoi puoi rivederti tutto l'esercizio completo ma alla fine stiamo facendo dov'è stiamo creando una una rope chain a mano praticamente andando a prendere i vari gadget stiamo usando la tecnica del virtual ilock con il push ad quindi metto nei vari registri i giusti valori e dopo li pusho nello stack detto questo io mi stavo perdendo un attimo con la matematica che è sempre il mio forte ma io volevo trovare la formula per arrivare ad avere un valore che sommato a questo mi dia mille e non è così facile vi faccio vedere visto che di dos è forte in matematica forse mi aiuta lui vi faccio vedere qual è la tecnica che io uso di solito però non parto da un valore predefinito cioè posso anche partire da un valore predefinito ma mi trovo due numeri a caso nel senso io parto da un valore che mi ero calcolato che era E5 58B1001 e ottenevo in risultato 0x è 58B1001 e mi da mi da tutto altro di quello che doveva darmi non mi tolano più conti ho sbagliato il numero qua 1 2 3 4 5 6 7 8 questo è giusto qua quanti ce ne sono 1 2 3 4 5 6 7 8 e sono giusti e qua è 0x1000 è giusto aspetta un attimo ok sbagliavo il passaggio allora prima di tutto vado a sottrare il numero che voglio da 0xFF un numero arbitrario e mi viene fuori questo adesso questo io devo sommare 1000 e 1 quindi piccalc questo più 1000 e 1 perché? perché praticamente ho portato in negativo questo numero sottraendolo da meno 1 e poi ci devo sommare 1000 più 1 perché questo era meno 1 per arrivare a 0 e quindi ottengo questo valore qui ok e no devo sommarsi 0x1000 e ottengo questo valore qui perfetto ora se faccio la la tecnica inversa quindi questo valore quindi faccio un piccalc di questo valore che ho ottenuto e lo sommo a quello da cui sono partito arrivo a 1000 in realtà se vedete qui c'è un 1 in più perché andiamo in overflow però a 32 bit si prendono solo 8 byte quindi il valore finale è questo ed è 1000 quindi sì con la stessa logica io posso provare a fare il calcolo che ci ha suggerito non mi ricordo mai il nome the diamond jack quindi se rifacciamo la stessa logica quindi facciamo togliamo a fffff il valore che abbiamo noi qui che è questo qui in pratica si toglie da meno 1 il valore quello che rimane poi viene sommato con l'altro e si arriva a gli si aggiunge 1001 che sarebbero i 1000 che vogliamo tenere più l'1 del meno 1 qui per arrivare a 0 e poi si sommano i 2 e si arriva a 1000 con il riporto di 1 il riporto viene ignorato perché siamo a 32 bit e così si risolve eh sì c'è un 2 più 0x ok quindi se noi da meno 1 sommiamo questo otteniamo questo adesso a questo ci aggiungiamo 1001 sempre con lo 0x perché sennò si incazza e otteniamo questo che è un bellissimo valore pulito eh senza eh senza null byte e a questo punto se io faccio pcalc di questo che è il nostro indirizzo più questo dovrei ottenere 1001 cioè 1000 esatto si si può fare possiamo risparmiare un passaggio quindi questa quarta qui non ci interessa più perché la facciamo sotto e quindi la prima riga diventerà questa e quindi il valore junk i 4 byte che vengono mangiati dopo la prima riga andrà a inserirsi qua e quindi questo lo possiamo togliere e questo qui andrà a essere parte di questo ok e qui uno è questo valore qui che abbiamo già visto e l'altro valore che dobbiamo mettere qui è questo qui che abbiamo calcolato e qui ci possiamo mettere semplicemente che questo valore qui più questo valore qui uguale 0x1000 la stessa cosa la mettiamo anche qui per coerenza con i due fattori e abbiamo risolto il problema quindi abbiamo mangiato un passaggio ci siamo risparmiati un passaggio andiamo a generare la share code e vedere se tutto funziona come previsto abbiamo generato la nuova share code la diamo in pasto al nostro programmino abbiamo il breakpoint sul pop eax quindi purtroppo un pezzo ce lo siamo no no comincia comunque con un pop eax quindi siamo qui è giusto perfetto quindi adesso mi aspetto che lui vada a poppare il valore di virtuale unlock perfetto puntatore di virtuale unlock niente è andato in tilt rifacciamolo partire vediamo se c'è un errore nostro o se è andato in tilt per qualche ragione puntatore di virtuale unlock ok dereferenzazione di virtuale unlock o la virtuale unlock normale metto il virtuale unlock in esi e adesso ho il secondo blocco quindi ho già il discorso di flocation type quindi di mettere 1000 quindi la somma di edx più edi e avere ropnop in edi quindi dovremo tenere d'occhio che ci sia 1000 in edi x e ropnop quindi questo inizio qui in edi vediamo se tutto va come calcolato allora in edi x abbiamo quel valore che ci siamo calcolati noi quello che è sommato all'altro da 1000 in edi abbiamo il valore che ci aspettavamo questo qua è il famoso ropnop di prima se andiamo a vedere è il famoso c3 eccolo qui quindi ci siamo facciamogli fare l'addizione e in edi rimane il no prop edi x abbiamo 1000 ora però c'è il pop ebx quindi questo anticipa già sulle parti dopo quindi metterà il meno 1 in ebx e infatti c'è ffff edi è rimasto invariato edi x è rimasto invariato quindi sono a posto adesso ho i due incrementi di ebx e arrivo a meno 1 c'è a 1 e siamo a posto e qui si ferma la nostra ropchain quindi grazie ancora diamond jack non avevo visto la possibilità di fare questa ulteriore abbreviazione quindi questa ulteriore amalgamento amalgamamento di di valori però così abbiamo in un passaggio solo fatto due registri quindi edi x e edi e in più ha preparato quello di ebx magnifico ci rimane solo ecx ci rimane ecx visto che poi eax push a di e lascia il codice l'abbiamo già ci rimane ecx che ecx è le fele protect che deve valere 40 come prima stessi ragionamenti come possiamo raggiungere il valore di 40 possiamo prima di tutto vedere se possiamo fare un oxor di ecx quindi azzerare ecx per poi aggiungerci un valore di 40 come sempre non possiamo fare direttamente pop 0x40 perché c'è pop in edi x di 40 perché 40 è un numero troppo piccolo e si porta dietro una serie di null byte e ci romperebbe tutto quindi esiste un pop di ecx si esiste vediamo vediamo se c'è anche uno secco quanti ne vogliamo pop di cx come se piovesse ne abbiamo e dove è qua e su questo siamo felici dobbiamo metterci il valore di 0x40 possiamo metterci il valore negativo e dopo negarlo chi lo sa vediamo se esiste una negazione di ecx purtroppo non c'è quindi non se ne parla guardiamo se è possibile fare uno xor di ecx quindi azzarare il registro che forse era quello che volevo far prima speravo di trovarne uno più più semplice invece vedo che è abbastanza incasinato vabbè questo fontesia x non ci interessa niente questo setta le flag cl non ci interessa niente questo va a mettermi ecx in eax si solo che a questo punto senza usare tutto questo casino mi vado a fare l'oxor di eax e ho raggiunto lo stesso risultato a 0 eax al posto che mettere lo 0 di ecx in eax quindi in realtà mi serve poco perché questo poi mi si allontana dal risultato finale perché mi va a mettere il mio 0 di eax e me lo mette in eax quindi a quel punto posso anche partire da eax e poi spostare in eax vediamo che tutti alla fine fanno questo spostamento da ecx in eax da qualche parte quindi alla fine mi bruciano comunque ecx quindi non va bene questo va qua questo va qua questo me lo mette no questi qua sono impossibili perché se io vado a solare a solare ecx poi vado a mettere 0 in questa locazione di memoria può anche starci 0 in questa locazione di memoria può starci 0 in questa locazione di memoria può starci però lui mi va a sovrascrivere edx i successivi 4 byte di edx i successivi 8 byte di edx e i 10 byte dopo edx quindi io di questi qua me ne posso anche fregare ma i primi 4 di edx mi rompo un po' di scatole perché io edx l'ho già impostato e ho fatto il lavoro qui ho fatto questo lavoro qui e che lui mi vada a bruciare edx può risultare diciamo fastidioso come possiamo risolverla? possiamo vedere se possiamo fare il lavoro su eax quindi magari fare il pop di ax di 40 in negativo e poi fare un exchange di ax in ecx esiste quindi l'exchange vediamolo ecx con eax non esiste e ax con ecx esiste e questo qua è anche abbastanza pulito però attenzione questo exchange mi fa poi un pop di edi un pop di esi e un pop di ebx quindi mi sfascia un po' tutto quello che ho fatto però so già che è l'unica soluzione che abbiamo quindi cosa possiamo fare noi? possiamo tenerlo però per evitare che mi vada a rompere edi che abbiamo impostato qui esi che abbiamo messo il virtual unlock e ebx a cui abbiamo messo il meno uno io posso semplicemente come fatto prima prendere questo blocco e spostarlo in blocco scusate il gioco di parole sopra in testa davanti a tutto in questa maniera visto che questo qua sarà l'ultimo valore che mi serve quindi spostare da ea x in ecx quindi andare a depositare il valore 40 che avrò ottenuto in ecx metodo in ecx questo qua sarà sicuramente l'ultimo l'ultimo gadget della fila però poi abbiamo un pop edi che mi disturba un pop eesi che mi è un influente perché poi inesi ci va messo il valore di a x e un pop ebx allora volendo con la stessa logica di prima io qui potrei andare già a preparare edi per l'operazione successiva allora mettiamo intanto a posto un po' di sintassi quindi sempre con la logica di comprimere e di risparmiare più istruzioni possibile io potrei fare un discorso di questo genere allora lui qua facciamo così qua ci saranno operazioni per mettere 0x40 in ea x e le vediamo dopo una volta messe in ea x in 40 con l'exchange andranno a finire in ecx e ci sta bene poi c'è questo pop edi questo pop edi noi lo facciamo anche qui noi lo andiamo a fare qui per caricare questo valore quindi nessuno mi veta di prendere questo valore qui portarlo via e mettermelo qui e questo qua sarà il pop edi per la somma tra edi x e edi e quindi qui posso risparmiare una due righe poi c'è il pop edi che invece però non mi serve a niente perché l'esi comunque verrà sovascritto qui e l'esi qui non viene scritto attraverso un pop ma attraverso un exchange quindi per l'esi ci posso mettere un junk quindi un valore nullo giusto per junk per pop esi e poi c'è il pop ebx in ebx qui ci vado a caricare un meno uno ma visto che questo add edi x edi si porta dietro comunque il pop edi x anche se io ci carico il meno uno già in questa sede qui poi comunque verrebbe sovrascritto da questo perché io non posso fare a meno di questo pop edi x perché non esiste un gadget pulito solo di somma tra edi x edi il più pulito che ho trovato è questo col pop edi x quindi questo meno uno non posso risparmiarlo e quindi ci andrò a mettere un junk anche per il pop edi x ovviamente potrei metterci anche il meno uno qui ma poi comunque sarebbe sovrascritto e sarebbe sovrascritto da da qui dove c'è quest'altro pop edi x quindi alla fine niente sono riuscito a risparmiare solo un pezzetto per quanto riguarda la somma tra edi x e cx e questo qui quindi andrà a fare anche la parte di pop edi per la somma ok quindi fin qui abbiamo ridotto in minimi termini ancora la nostra operazione cosa ci manca? ci manca semplicemente di trovare come mettere 40 in eax anche qui abbiamo più possibilità abbiamo detto possiamo caricare il meno 40 e poi negarlo la negazione di la negazione di eax abbiamo già visto che esiste forse l'abbiamo già usata da qualche parte vediamo se possiamo rubarla senza andare a ricercare no l'abbiamo vista l'altra volta quando facciamo la virtual protect probabilmente ma qui non l'abbiamo ancora usata quindi andiamo a prenderci il gadget per negare eax quindi faremo neg diax eccolo qua guarda il primo che bello pulito che è e ce lo metteremo qui 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 possiamo toglierlo questo qui andiamo a sistemare la sintassi e cosa ci manca ci manca da fare il pop di ax e caricarci il valore meno 40 quindi rubo questi due in prestito il primo è pop e ax e qui sarà meno 40 dobbiamo solo calcolarci quanto vale meno 40 quindi facciamo p calc meno 0x 40 e abbiamo questo qua 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 vabbè ci aggiungeremo una f a mano perché non la voglio selezionare di nuovo quindi qui avremo f questo qua quindi ricapitolando parte il programma sovrascrive ap la prima istruzione che fa è andare a mettere in ax il meno 40 a negarlo per renderlo 40 e a spostare il 40 in acx come è giusto che ci sia perché in acx deve essere 40 poi va a fare un pop di edy quindi in edy mi va a mettere questo qui che è un semplice rock nop ed è giusto e lo lascia lì e lo prepara per la somma successiva poi vabbè fa dei junk va semplicemente a compensare questi due pop che non servivano a nessuno ma purtroppo ci sono poi andiamo a lavorare su easy quindi in ax ci mettiamo questo qui no questo qui è il junk della istruzione iniziale che a questo punto va messo qui perché sappiamo che all'inizio dopo ap quindi dopo questa riga lui si mangia 4 byte quindi quello lì è il junk solo per quello lì siamo al secondo blocco in ax ci mettiamo il puntatore della importare stable di virtual unlock lo dereferenziamo in modo da avere la virtual unlock pulita e questo lo sistemiamo in easy come è giusto che sia perché in easy in easy abbiamo la rock nop in easy abbiamo il puntatore della virtual unlock perfetto poi andiamo a mettere flocation type 1000 che deve finire in edx come c'è scritto qui fdx edx deve avere l'flocation type per fare questo 1000 cosa abbiamo fatto abbiamo fatto il pop di edx messo questo valore che abbiamo calcolato prima e poi sommato edx con il valore di edy che era l'indirizzo nel quale c'era la rock nop di prima quindi questo valore sommato questo ci da 1000 e siamo a posto quindi abbiamo 1000 in edx in più qui c'è già il pop ebx che ci prepara per istruzione dopo perché dopo per quanto riguarda il parametro di vsize della virtual unlock dobbiamo avere il valore di 1 in ebx quindi ci mettiamo meno 1 e poi incrementiamo di 2 volte per arrivare a più 1 quindi abbiamo tutti i parametri della virtual unlock tutti i parametri dell'api al proprio posto ci manca solo un piccolo passaggio ci manca il jump sp una volta trovato il jump sp farà sì che una volta che abbiamo pushato tutto nello stack verrà tutto eseguito in maniera coerente il jump sp salterà nella shell code quando quando la virtual unlock avrà finito la sua esecuzione quindi avrà reso lo stack eseguibile e quindi sarà tutto la shell code sarà eseguibile quindi l'eseguirà ci darà la nostra calcolatrice o quello che è e siamo tutti felici e contenti ci manca il jump sp ma prima andiamo a fare un rapido check fino a questo punto vediamo se quest'ultimo passaggio e quest'ultime condensazioni di passaggi che abbiamo fatto se abbiamo fatto tutti i calcoli corretti allora abbiamo il primo pop e a x vediamo se è giusto sì il codice comincia con pop e a x e qui deve andare il meno 40 quindi pop e a x va il meno 40 e ci siamo nega e a x e in a x avviene 40 e adesso e a x lo vado a sparare in ec x eccolo qua in ec x ho il 40 ho il pop di edy e vado a preparare edy con il famoso con il famoso c3 quindi il rop nop eccolo qui e invece in es e e bx ci metto porcherie perché tanto non mi servono mi serviranno per dopo faccio di nuovo un pop di a x ma stavolta in a x ci metto il puntatore della virtuale alloc dereferenzio il puntatore così ho il valore vero della virtuale alloc all'interno della canale 32 e questo lo vado a storare in esi e siamo a posto adesso vado a caricarmi in edyx il valore complementare che sommato con edyx con edy scusa edyx con edy mi deve dare in edyx 1000 faccio la somma e in edyx 1000 quindi vedete come pian piano si stanno popolando tutti i parametri che servono per la nostra api quindi abbiamo l'indirizzo della virtuale alloc qui in esi abbiamo 1000 qui 40 qui ci manca l'uno in edyx quindi qui facciamo il pop di ebx e abbiamo il meno 1 incrementiamo due volte ebx e abbiamo 1 quindi ora abbiamo tutti i tre parametri della virtuale alloc al loro posto in edyx 1 in ecx 40 in edyx 1000 abbiamo l'indirizzo della virtuale alloc e abbiamo anche il ropnop ci manca solo in hop e il jump sp in hop ce li abbiamo perché avevo già scritto quindi questa parte qui vado a mettere la stringa di in hop in a perfetto e poi con il push ad vado a pushare tutto tutto nello stack se vedete qua già lui si prepara la virtuale alloc con i vari parametri il problema perché adesso non funziona ancora è perché non essendo di jump sp una volta che lui ha reso con la virtuale alloc lo stack scrivibile non ci sarà l'istruzione di jump per saltare e poi lasciare il code ma non fa niente intanto vediamo che fino a qui funzioni come vedete siamo entrati nella virtuale alloc ma prima di eseguirla andiamo a vedere un attimo la mappa della memoria dove è lo stack allora il nostro stack è 0016 f c 10 0016 f c quindi eccolo qua lo stack ce lo dice anche lui lo stack se vedete è rv quindi lettura scrittura poi vabbè c'è il guard ma quello possiamo ignorarlo facciamo eseguire la virtuale alloc fino al return ritorniamo se andiamo a vedere adesso la mappa della memoria niente non è stata aggiornata è sempre in rv non so come si fa fare il refresh qui ci sarà un modo per refreshare questa questa finestra ma non so f5 non credo funzioni no forse se facciamo così e torniamo indietro no perché non ha aggiornato la finestra niente non so come si fa a fare il refresh qui comunque questa area di memoria adesso è diventata scrivibile altrimenti non farebbe poi l'esecuzione della payload dopo però non so come fare il refresh per farvi vedere in tempo reale che questa è diventata scrivibile comunque è diventata scrivibile lo vedremo adesso che andiamo a finire l'exploit e vedremo che effettivamente lo stack a questo punto ci lascerà eseguire il code quindi cosa ci manca ci manca ci manca solo nello stack lo stack l'indirizzo di ritorno essendo una coil ma noi non ce ne frega niente perché lui va a saltare l'indirizzo attuale di sp quindi proprio in testa la nostra seal code push sp invece funziona come il concetto della del rop chain visto fino adesso io faccio il push di un valore questo arriva in cima allo stack con il retorno successivo questo valore che è in cima allo stack va in ap quindi semplicemente vado a mettere in testa allo stack un indirizzo a se stesso un puntatore a se stesso quindi un qualcosa che punta proprio allo stack questo finirà in ap e il p saprà che dovrà eseguire il primo comando che c'è nello stack quindi è proprio la stessa logica che usiamo nella rop chain riga per riga e quindi io devo trovare un qualsiasi istituzione che sia un jump una coil o un push sp indifferentemente quale la trovo l'importante è raggiungere l'obiettivo di saltare nello stack poi questa roba la devo mettere in ebp ok quindi prima di tutto quello che mi interessa è andare a fare un pop di ebp perché dovrò mettere in ebp questo valore questo jump sp e dobbiamo andare a vedere quindi se è possibile fare una pop di ebp ne abbiamo quanti ne vogliamo quindi possiamo andare a vedere se riusciamo a trovarne uno pulito senza altre porcherie e anche di questi ne abbiamo quanti vogliamo quindi prendiamo ad esempio questa mettiamo un attimo in sesto la sintassi come sempre prepariamo già per la riga dopo e qui ci mettiamo semplicemente l'indirizzo nel quale ci sarà una di quelle istruzioni o jump sp o coil sp o push sp vediamo se abbiamo una jump sp speravo di trovare la secca così senza altre porcherie e e non ce l'ho vediamo se abbiamo una vabbè possiamo vedere se ce l'abbiamo senza c'è con altra roba e poi non ce l'abbiamo poi poi non esiste un jump sp vediamo se abbiamo un coil sp non esiste e vediamo se c'è un push sp ok di push sp ne abbiamo abbiamo dei push sp e abbiamo anche questo subito primo con la retur che è pulito da null byte da double charge e non ha altre istruzioni a cui dobbiamo poi compensare quindi questo fa esattamente al caso nostro ebbene abbiamo finito di costruire la nostra rob chain è stata un po' una faticaccia l'abbiamo lavorato tre settimane la prima volta per calcolare questo la seconda per costruire la prima parte di rob chain scegliendo però la virtual protect di cui non avevamo un puntatore e la terza volta abbiamo costruito una rob chain apparentemente funzionante però prima di dire sì ce l'abbiamo fatta eccetera proviamo a eseguirla e vediamo se effettivamente funziona genero la nuova share code lo importo qui e vediamo allora risseguiamo tutto il primo pop x mi va a caricare il meno 40 nego e a x diventa 40 e lo sposto in ec x e ci siamo faccio il pop di edy che ci servirà per dopo per la somma e easy e bx invece ci metto due valori junk due valori fuffa 42 42 42 solo per riempimento faccio il pop di x e ci carico il puntatore della virtual unlock dei referenzi al puntatore e c'è il vero indirizzo della virtual unlock muovo questa roba in easy e la lascio lì faccio il pop di edy per fare la somma con edy e avere e avere poi il risultato di 1000 nel frattempo in edy c'è il ropnop in edy c'è il ropnop faccio la somma e effettivamente ho 1000 faccio il pop di edy quindi carico il meno 1 che ci servirà per poi diventare 1 con questi due incrementi diventerà 1 che è quello che ci serve in ebx quindi abbiamo 1 40 000 l'indirizzo della virtual unlock e il ropnop adesso andiamo sull'ultima parte che abbiamo appena fatto cioè quella di ebp in ebp ci abbiamo caricato questo valore qui questo valore qui se andiamo a vedere il dump è un 54 c3 che dovrebbe essere proprio un push sp o semplicemente il 54 dovrebbe essere un push sp non me lo ricordo andiamo a vedere nasm shell disas 54 54 e push sp perfetto quindi abbiamo il valore che ci serve abbiamo un push sp nel registro ebp premiamo f7 ancora una volta abbiamo il pop e x che andrà a mettermi la sfilza di nop quindi i4 0x90 in ea x eccoli qua abbiamo tutto quello che ci serve facciamo un push ad abbiamo nello stack quindi tutti i parametri al loro ordine però se vedete lo stack è ancora un po' disordinato perché dobbiamo fare l'ultimo return che si porta via l'indirizzo della virtual protect quindi arriviamo all'ultimo return che va a puntare della virtual unlock scusate e quindi siamo all'inizio della virtual unlock e siamo perfetti abbiamo tutti i parametri a posto abbiamo l'uno abbiamo il mille abbiamo il quaranta e abbiamo l'indirizzo di ritorno da virtual unlock e i nop compensativi andiamo quindi avanti fino alla fine dell'istruzione quindi a vet se adesso ritorniamo c'è il push sp che sarebbe il jump sp di prima che va a mettere in cima allo stack prima dei nop e quindi prima dell'inizio della nostra shellcode va a mettere in cima allo stack semplicemente il fatto del puntatore allo stack se vedete l'indirizzo è proprio questo 0016FC2C che è proprio il primo indirizzo della nostra shellcode adesso corrett magicamente questo qui diventa in AIP diventa l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire e infatti AIP punta ai nop quindi all'inizio della nostra shellcode adesso c'è il momento della verità se primo F7 in questo momento se lo stack è stato reso eseguibile bene e quindi eseguirà il nop e passare l'istruzione successiva se invece lo stack non è stato reso eseguibile quindi la virtual alloc ha fallito torneremo a una condizione iniziale in cui ci darà access denied perché il DEP evita proprio che lo stack sia eseguibile e invece noi possiamo eseguire istruzioni tranquillamente quindi non ci resta che mandare avanti in play tutta la shellcode e goderci la nostra bella calcolatrice e abbiamo fatto la nostra DEP che ci ha permesso di bypassare il abbiamo fatto la nostra ROPChain che ci ha permesso di bypassare il DEP ed eseguire la nostra shellcode e questo qua era un po' la fine dell'esercizio di questa volta dell'esercizio di tre settimane non solo di questa volta è un esercizio che abbiamo portato avanti a tre settimane e vi ho fatto vedere come crearvi una ROPChain per bypassare il DEP a mano per chi si ricorderà c'erano più modi per fare le ROPChain uno era questo di usare un API con la tecnica di push AD quindi virtual analog virtual process memory quelle che avete l'altro metodo era quello di costruire un'intera reverse shell o shellcode tutta di di gadget scusate non di nob di gadget però quello è un lavorone c'è stata di ore a riuscire a costruire le logiche in assembly di una shellcode tutta con i gadget la terza tecnica di cui vi ho parlato è al posto di usare la tecnica del push AD quindi sistemare tutti i parametri nel registro era quella di creare un template vuoto nello stack un template per la virtual analog e poi a runtime andare a fixare i valori che vi servono in questo template dopo semplicemente farlo saltare in cima al template in cima al template ovviamente ci sarà l'indirizzo della virtual analog questa verrà eseguita e saltarà poi alla shellcode quindi diciamo l'alternativa a questo esercizio fatto con il con il push AD l'alternativa è quella di usare un template e andare a sovrascrivere in questo template in questa zona di memoria i valori andando a settare 40 1001 è quello che serve e questa tecnica qui di usare il template però è lunga tanto quanto questa se non di più quindi la vedremo la prossima volta quindi direi che per oggi preferirei fermarmi qui come parte tecnica lascierei piuttosto spazio a voi per domande dubbi incomprensioni se volete rivedere qualcosa perché preferirei cominciare la prossima volta a mente e luci da tutti quanti il discorso del template perché oggi già questo è abbastanza pesante come topic non vorrei non vorrei mettervi troppa carne sul fuoco che comunque venerdì sera per tutti quindi piuttosto lascerei spazio a voi per eventuali domande o chiarimenti su questa roba qui ho corso un po' su certi punti qualcuno magari può essersi perso quando abbiamo cominciato a condensare più istruzioni assieme quindi chiedetemi volentieri quello che non vi è stato chiaro e lo rivediamo un attimino piuttosto io non vi ho chiesto mai ogni volta vi davo ogni volta ogni tanto vi ho dato degli esercizi a casa nel senso vi ho dato ho invitato voi a fare degli esercizi però non ho mai chiesto poi all'inizio delle puntate se qualcuno li avesse mai fatti e quindi anche questo sarei curioso di sapere se effettivamente qualcuno ha provato a fare le cose quando vi dicevo provate a fare la rob chain con questo provate a fare quello o se siete solo qui a lurcare passivamente a rubare le mie informazioni senza fare niente no scherzo se non siete riusciti a farlo insomma se qualcuno è riuscito a fare so che all'inizio di dos ha fatto alcuni esercizi poi si è stufato anche lui passivamente no no so che tu all'inizio facevi oh io avrei una domanda perfetto la ricerca dei vari gadget può essere automatizzata supportata oppure sempre un'attività di ricerca no ecco si perché tu ti sei perso l'altra puntata e anche oggi ho ripetuto questo concetto ma l'ho ripetuto all'inizio tutto questo esercizio qua dei gadget è un esercizio che io vi ho voluto far vedere e vi consiglio di fare puramente a scopo didattico che vi dà una grossissima confidenza poi con con l'assembly e come arrangiarvi con le piccole istruzioni assembly quindi come trovare alternative nel caso in cui i gadget non ci siano allo stesso modo delle live che avevo fatto sul rendere null free una reverse shell di metasploit sono tutti esercizi didattici solo per prendere confidenza con assembly con l'obiettivo poi di scrivervi voi una share code oppure andare a fixare eventualmente una ROP chain come questa nel caso non dovesse funzionare però in realtà noi quello che abbiamo visto due volte fa o addirittura tre volte fa è quello che facevo vedere prima normalmente ci sono dei tool automatici che vi generano che vi generano la share code ad esempio questo qui questo qui è il primo DEP che abbiamo visto quando abbiamo cominciato a parlare DEP e questa ROP chain è stata generata automaticamente da Mona sempre il solito plug-in di Core LAN plug-in di immunity immunity debugger quindi in realtà ci sono dei tool automatici che vi generano la ROP chain però può succedere come in questi casi come in questo caso qui di questo MP3 Ripper che Mona non trovi tutti i gadget ti faccio vedere proprio gli output generato da Mona per il calcolo della ROP chain in questo caso qui questo qui ROP TXT no questo è l'elenco di ROP che abbiamo usato stasera ROP chains questo qui è l'output che vi da Mona Mona vi da lo specchietto che abbiamo usato anche noi quindi le due vabbè ci sono due alternative di chain per fare la virtual protect e poi vi da le chains pronte per ogni linguaggio per i Ruby questa ad esempio è la virtual protect per Ruby poi abbiamo la virtual protect per C abbiamo la virtual protect per Python eccetera però se guardi su Python a parte che è un casino fa mille volte e di X probabilmente questo qua è il valore 40 quindi parte da 0 e poi incrementa 40 volte per arrivare a 40 sicuramente non è non è il metodo più logico è più smart per fare questa roba qua infatti guarda a 0 e di X e poi lo incrementa 40 volte se non ricordo male e di X è proprio il 0x40 infatti diciamo che noi abbiamo trovato un metodo più intelligente porti meno 40 e lo neghi e lui ha preferito a 0 e di X e poi incrementarlo 40 volte vabbè sono scelte di vita è un tool automatico non si può pretendere troppo però quello che volevo far vedere è che se adesso zoom un po' così si legge meglio se fai attenzione in questa vabbè questa è quella Ruby in quella Python generata da da Mona che è un tool automatico qua mi dice attenzione non sono in grado di trovare nessun puntatore all'API quindi non riesco a trovare un puntatore valido alla Virtual Protect che poi è il problema in cui ci siamo battuti anche noi l'altra settimana quindi puoi avere un tool automatico come questo che ti genera una Rob Chain però può essere situazioni appunto come questa in cui devi andare a fixare a mano per cui in questo caso si può partire da questa e andare solo a trovare una soluzione per questa roba qui la soluzione in questo caso è non usare l'API Virtual Protect ma usare la Virtual Illoc quindi a quel punto dovrai cambiare anche un po' i parametri sotto quindi ok puoi non partire da 0 come abbiamo fatto noi scrivete tutto da 0 però puoi partire da una semi funzionante come questa e andare a fixare quello che manca quindi si rispondete si solitamente si usano i tool a mano si fa solo per capire per essere in grado poi di fixare e ho per curiosità di sapere come funziona poi Mona vi da altre alternative vi da ad esempio una Rob Chain per la Set Information Process che però funziona solo per XP 2003 quindi è conveniente non è più usabile il giorno d'oggi e anche questa in tutti i linguaggi e dopo vi da questa altra la Set Process Depth Policy che va bene per XP Service Park 3 Vista Service Park 1 2008 Service Park 1 con Windows 10 non funziona più quindi diciamo che l'unica a usare a oggi l'unica roba che funziona sono o le Virtual Allo o le Virtual Protect ok se vedete Mona qua sotto che l'altra volta non ve l'ho fatto vedere apposta perciò che non andiate a a sbirciare a rubare Mona vi da già anche la Rob Chain pronta per la Virtual Protect quindi per la Virtual Alloc cioè quella che abbiamo fatto noi stasera lo fa un po' in maniera differente lui parte prima a fare il Pop AX ah! Exchange e AX Easy come noi qua mette Push e BP vabbè c'è l'unica soluzione perché non c'erano né Jump né Coil qua lui va a negare il meno 1 e poi ah ok fa il Push di AX nello Stack e poi fa il Pop di BX quindi per spostare AX nello Stack va a fare Push e Pop però poi attenzione lui qua va a toccare lo Stack vedete ad SP8 quindi ha dovuto poi mettere questi due Junk compensativi per andare a coprire quello che SP va a togliere aggiungere 8 SP vuol dire praticamente mangiare due righe di SP e quindi per evitare che SP si mangi le due righe dello Stack successivo della parte successiva utile alla Rob Chain ha dovuto mettere due Byte due due sequenze Junk proprio per compensare questo AD SP di 8 e quindi lui per spostare un Byte da una parte all'altra questa mi ha dimenticato di farvela vedere fa un Push nello Stack e un Pop da un altro registro ecco il problema è che anche questa qua di Mona non è funzionante perché se vedete in questo caso qui Mona non è in grado di trovare il modo per mettere 1000 in edX e noi invece a mano l'abbiamo fatto noi l'abbiamo calcolato poi vabbè qui c'è il Pop in edX e il Push AD quindi vedete anche con il Virtual Alloc Mona vi dà una Rob Chain quasi funzionante ma non del tutto funzionante quindi anche in questo caso sempre per rispondere a te e Diamond Jack si si possono usare i tuoi automatici aiutano tantissimo però se come in questo caso non trova tutti i gadget comunque bisogna fare un piccolo aggiustamento manuale quindi saper fare il procedimento che vi ho fatto vedere tra l'altra sera e oggi e utile anche in questi casi qua quando il tool non riesce a darvi fuori una Rob Chain funzionante voi dovete essere in grado manualmente di fixarla se volete ottenere quell'exploit se no dite vabbè pazienza prendo un altro binario exploit un altro questo lo lascerò per domani e dopo non lo fate mai più ci può essere una filosofia di vita anche questa adesso a parte le battute spero di averti risposto abbastanza in modo completo ok ci sono altre domande chiarissimo grazie mille prego figurati perché veramente sulle 22 e 30 non comincerei l'altra parte di cui vedremo niente tra l'altro vedo che un po' di utenti si sono già staccati dalle live e quindi rischiamo di partire e trovarci in tre quindi è meglio aspettare e iniziare freschi il prossimo venerdì con il discorso del template prossimo venerdì tra l'altro è il 10 ok nessun problema ci sono vi avviso già che potrebbe essere che un venerdì non mi vediate ma comunque verrete avvisati dallo staff di security search quindi seguite sempre sui social security search su twitter su linkedin oppure anche gli avvisi che vengono dati all'interno del canale discord perché sto traslocando lo sto cambiando casa e quindi una di questi fine settimana adesso non so ancora quale per vedere quando mi arriva la cucina uno di questi fine settimana sarò in fase di trasloco e quindi non riuscirò fisicamente a essere qui a fare quindi un venerdì salteremo probabilmente non so se verrà sostituita la mia live con qualcun altro o se semplicemente c'è quindi qualcun altro che magari presenzerà qualcosa di diverso o se semplicemente si farà il venerdì dopo adesso non lo so ancora questo dipende poi dall'organizzazione di security cert però stay tuned come si dice state attenti perché un venerdì potrebbe saltare purtroppo cercherò di fare possibile per riuscire ad essere qui ma essendo weekend mi cadrà probabilmente in mezzo tutta la sistemazione del trasloco o post trasloco quindi un venerdì di febbraio sicuramente lo perdiamo infatti vorrei e spererei nei prossimi due venerdì perché io dovrei essere qua sicuramente il 10-17 penso che il trasloco cadrà nell'ultima di febbraio nei prossimi due venerdì vorrei finire la parte del template la depth col template in modo da chiudere tutta la parte windows base di cui ci mancherà solo la sdr e passare poi alla linux sulla linux di vedere tutto quello che abbiamo visto qui quindi però nella chiave di linux che su linux tante cose cambiano quindi vedere il buffer overflow vanilla vedere una red tulip c che è un po' alla base di quello che abbiamo fatto noi qua con la depth vedere che ne so lì cominciare a vedere le sdr lì il memory leak il one gadget vedere tutto quello che c'è di vedere sulla linux sempre 32 bit poi riprendere le sdr 32 bit qui e quindi a quel punto abbiamo chiuso il discorso generico base insomma di entry level su tutto quello che è exploitation 32 bit e poi vediamo di passare a 64 bit dove vedrete che alla fine passare a 64 bit stringi stringi cambia solo la dimensione degli indirizzi e quello che cambia sono le calling convention delle funzioni quindi i parametri alle funzioni non andranno più passati nello stack come facciamo adesso ma andranno messi in determinati registri o perlomeno i primi 5 parametri vanno nei registri poi dal sesto in poi in ordine nello stack quindi facendo attenzione a questa piccola accortezza quindi a dove mettere i parametri e a lavorare con indirizzi più grandi calcolare che ogni riga ogni roba non sarà più di 4 byte ma sarà di 8 facendo queste piccole accortezze vedrete che a livello di logica di tecniche d'attacco di tecniche di exploitation le tecniche sulle stesse cambiano solo queste piccole accortezze matematiche diciamo e quindi il passaggio da 32 a 64 bit sarà abbastanza indolore tranne per la parte di SLR perché vedremo che una tecnica di bypass di SLR sarà il brute force sfruttando la bassissima entropia che c'è perché solo 3 byte cambiano praticamente solo 3 parti dell'indirizzo cambiano a 32 bit mentre a 64 bit è stata un po' fixata questa cosa e molte più parti dell'indirizzo cambiano e quindi un brute force diventa impossibile invece a 32 bit il brute force è abbastanza semplice e quindi spesso volentieri quando si adepassare le SLR a 32 bit si può usare anche la tecnica del brute force quindi vedremo anche questa roba qui e per il resto vedrete che gli attacchi 32 e 64 bit sono la stessa cosa cioè la logica è quella e poi basta insomma una volta fatto Linux e Windows 32 e 64 bit vedremo dove ci portare il cuore faremo un po' di heap forse faremo un po' di kernel oppure anche ci fermeremo se non avrà destrato interesse vedremo un attimino come andrà avanti ma intanto ora di arrivare lì c'è ancora tanta strada da fare bene nel frattempo che io parlavo guardavo se vanno altre domande ma io altre domande non vedo quindi niente quindi grazie per essere stati con noi anche oggi e a questo punto direi che ci possiamo andare a riposare tutti quanti o festeggiare o qualcosa che volete fare e ci vediamo venerdì prossimo per fare la parte di dep però con i template ecco quella parte lì con i template i tool automatici non ve la genera quindi quella è un'alternativa ulteriore nel caso in cui il tool non vi dia una ropchain funzionante voi non riuscirete a farle funzionare proprio per l'assenza di gadget perché magari non c'è nessun gadget che fa l'exchange il pop il move o qualcosa per le BX non avete nessun modo per scrivere le BX e lì a quel punto questa tecnica non la potete più usare questa qua del push AD perché il push AD richiede necessariamente che tutti questi parametri siano riempiti così in questa maniera qui tutti questi registri scusate che poi diventeranno parametri anche della virtual ilock o della funzione dell'API nello stack devono essere per forza compilati così non è che dite vabbè non trovo questo lo salto oppure questo qua è un NOP tanto è un NOP non me ne frega niente non lo metto no se voi lo mettete esattamente così quando la la ropchain viene eseguita la cosa non funziona e se per sfiga vuole che non avete nessun modo di mettere il ROP NOP in AD ciao non potete usare questa tecnica quindi si passa alla tecnica del template che vi farò vedere la prossima volta bene detto questo allora vedo che domande non ce ne sono a te alla prossima buona serata a tutti ok grazie a tutti buona serata e alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti